La criminalità organizzata del Pugliese tuttavia non ha una connotazione unitaria, chiaramente varia a seconda delle province pugliesi, con una diversificazione tra le varie province. Dalle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni pubbliche alla società foggiana, la criminalità organizzata nel Barese e nella BAT con le sue ramificazioni verso i Balcani per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e ancora il capologo pugliese dove ci sono ancora due clan egemoni e gli inserimenti nella malavita tra i colletti bianchi dalla quale si vince che la mafia non è un fenomeno rurale ma stratificato ormai anche nell'economia. E questa è la fotografia che il report del primo semestre 2021 della Direzione Investigativa Antimafia scatta per la nostra regione, un territorio in cui ci sono diverse mafie, tutte ben localizzate, che operano nei loro spazi di manovra e dove nel prossimo futuro arriveranno i fondi del PNRR da tenere sotto stretto osservazione. La situazione è una criminalità molto interessata agli affari, all'economia. Anche recenti attività investigative hanno portato alla luce un particolare interesse per i settori dell'economia. Peraltro con interazioni non solo nella regione o nella provincia e nella regione ma anche con proiezioni fuori regione. Il livello di attenzione va mantenuto sicuramente alto, soprattutto con le possibili infiltrazioni verso l'economia legale e soprattutto verso le potenziali provvidenze che potranno essere le RG dello Stato in chiave di PNRR. A proposito di proiezioni fuori regione, per quanto riguarda soprattutto l'approvvigionamento della droga da Bari, dal Barese e anche dalla BAT, c'è questo collegamento sui Balcani che ancora persiste? Sì, sicuramente, perché anche grazie alla collocazione geografica della Puglia rende agevole il traffico di sostanze sufficienti probabilmente dall'Albania. Per quanto riguarda l'ABAT invece, qual è la situazione? Una condannazione sensibilmente diversa rispetto a quella barese, comunque risente molto dell'influenza della vicina provincia di Foggia.